ciao a tutti oggi un nuovo video di pulizia di casa ho già pulito tutto adesso ve lo faccio vedere ho pulito la polvere dappertutto ho lavato dappertutto e niente adesso mi vado a riposare un po buona visione a tutti e spero che il video vi piace se vi piace lasciatemi un like se non vi siete ancora iscritti al canale iscrivetevi al canale e vi saluto alla prossima ciao ciao iscriviti al canale ciao 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 ciao